Si investe di più sulla famiglia e si consentono alle famiglie di poter fare figli, non certamente importare immigrati. La distinzione è chiarissima. Importare immigrati non è merce. Importare immigrati perché purtroppo il nostro paese va a raccogliere presunti profughi, potenziali immigrati clandestini sulle coste lipiche. Tutte le missioni navali che abbiamo nel Mediterraneo ci stanno portando a prendere, ad andare come un vero e proprio taxi, come un tragetto sulle coste lipiche e a prendere e a portarci. Ma lei è mai entrata in un ospedale? Ha mai visto chi fa l'assistenza agli anziani in questo paese? Lei è mai entrata in un ospedale o in un pronto soccorso dove ci sono gli italiani che fanno la coda e pagano il ticket e gli immigrati che non fanno la coda e il ticket non lo pagano?